buongiorno a tutti benvenuti su cecce shopping tv al nuovo format che abbiamo inventato non è vero è cresciuto ed è nato perché perché in bike come vedete qua è un marchio cinese e uno dirà cinese aspetta aspettate è nato nel 2007 è dal 2007 che vende in tutta l'asia specializzato molto nella bici da strada quindi direte che cazzo c'entra con noi che facciamo enduro mountain bike no perché loro adesso stanno iniziando a ampliare le loro vedute stanno iniziando ad arrivare in europa e in america quindi mi hanno contattato perché hanno visto che faccio qualche videtto su youtube ho detto se ti mandiamo dell'abbigliamento ci fai un piccolo video ho detto ma perché no quindi sono andato sul loro sito ho iniziato a guardare ho detto ma non è che c'è molta roba io non vado in bici da strada cosa posso prendere allora ho detto beh abbiamo iniziato come prima cosa fare i guanti che ho preso adesso dopo vi racconterò come sono fatti e ho preso un QA perché perché adesso vedete già buio sono le due e mezza ed è già buio viene freddo QA è comodissimo perché in salita andando come facciamo noi piano piano con calma te lo apri prendi un po' d'aria arrivi in discesa cosa fai? QA e in discesa sei bello protetto la figata di questo QA qual è? uno su me è il design molto semplice minimale io l'ho preso nero taglielle è un po' largo ma perché perché ho calcolato pettorina è la cosa più bella che su me ci vuole sempre taschina con lo zip mettete le chiavi mettete il cellulare ed è protetto molto carino a me piace molto l'ho usato già due tre volte l'ho già anche usato sotto la pioggia tiene l'acqua quindi carino cosa c'ho invece guanti guanti allora l'unica cosa che devo dire non sono di quelli super sottili quindi se volete i guanti super sottili non sono quelli giusti però cosa c'hanno invece chi vuole invece può imbottatura per le nocche imbottatura per i palmi quindi se viene male le mani sono ottimi e poi la figata in questo mondo social sono touchscreen quindi volete rispondere al cellulare avete freddo funziona sono dei bei guanti anche questi alla fine più invernali forse che estivi ma sono ottimi guanti su questo ve lo dico veramente perché io sono molto precisino taglia questi sono perfetti m io sempre per tutte le marche uso m e anche questi sono giusti m come ho detto il qway ho preso l ma magari giusto era m se non volete mettere la pettorina finito questa modalità shopping cosa vi dico sotto in descrizione vi lascio tutti i link per trovare in bike che vedete un po cosa vendono se voi nel periodo invernale fate bici da strada quindi top perché avete un botto di roba seguitili perché inizieranno a produrre roba per mountain bike e hanno un'ottima qualità prezzo c'è poco da fare voi direte prodotti in cina è vero però tutti i prodotti in cina loro è una marca nuova saltano diciamo il venditore quindi come magari altri marchi di bici riescono avere prezzi più concorrenziali perché saltano un passaggio quindi vi lascio tutti i link per trovarli e anche il codice sconto mio personale che avete il 15 per cento di sconto quindi così cosa posso dirvi ciao a tutti belli